buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel breve video di oggi andiamo a vedere assieme come ripristinare metamask operazione molto semplice qualora avessimo salvato le nostre parole segrete durante la prima installazione o durante l'utilizzo del nostro portafoglio diverso è se abbiamo creato più account perché ogni account ha una chiave d'accesso che va costudita e inserita durante il ripristino andiamo a vedere come funziona questa operazione dopo la sigla siamo di nuovo su metamask punto io e in questo video andiamo a vedere come fare un ripristino prima di tutto ovviamente bisogna installare metamask e creare il portafoglio non vi preoccupate se faccio vedere dei dati sensibili perché in questo momento sto usando un altro browser e metamask che andrò a installare ripristinare verrà cancellato dopo il video la creazione del wallet è semplicissimo una volta scaricato all'estensione seguiti i passaggi ma ho fatto già diversi video riguardanti metamask arriverà un punto che vi chiederà di mostrare e salvare i vostri sid questa come ben sapete una cosa molto importante dovete copiarla incollarla stamparla in posti sicuri e tenerli segreti il sid vi permetterà di andare a ripristinare il vostro account inoltre una sicurezza in più oltre a salvarvi sid una volta che avete generato metamask potete cliccare su questi tre pallini dettagli account e volendo andare anche ad esportare la vostra chiave privata e salvarla per ripristinare l'account principale bastano i sid ma tenete anche la chiave privata che è un altro metodo di recupero magari separato dai sid un problema può sorgere quando un utente va a creare più account perché se clicchiamo qui in alto dal pallino vedete account 1 possiamo creare diverse account account 2 ad esempio associato sempre al nostro wallet o addirittura un account 3 chi decide di utilizzare metamask con diverse account come ad esempio account 2 account 3 o più account deve fare una cosa importante cliccare su ogni account cliccare su tre pallini dettagli account e in questo caso è doveroso andare a esportare la chiave privata quindi ricapitolando per ripristinare il wallet con l'account base bastano i sid ma se decidete per qualche motivo di fare a più account dovete avere le chiavi di quegli account giustamente per ripristinarli ora li ho copiati su word disinstallo metamask e vi faccio vedere il ripristino ho cancellato metamask lo sto reinstallando tramite l'estensione aspetto all'installazione e importiamo il mio wallet perfetto abbiamo riavviato l'estensione clicchiamo su inizia e poi ho già una frase sid importa portafoglio a consento alla voce ricovero frase segreta andiamo a incollare le parole che abbiamo ottenuto la prima volta che abbiamo installato metamask dopodiché impostiamo una password e clicchiamo su in porta e come vedete ho ripristinato il mio account principale di metamask ora però voglio andare a ripristinare gli altri account quindi clicchiamo in alta destra su questo cerchietto colorato vicino a rete principale tirio andiamo su import account vedete che chiede alla chiave privata vado sul mio foglio di word vado a copiare la prima chiave privata ritorno su metamask lo incollo e clicco su importa voglio import vedete che si è importato l'account 2 importato voglio importare anche il mio vecchio account 3 clicco di nuovo importa account ritorno sul mio foglio di word copio incollo importo e vedete che adesso ripristinato il mio account principale più tutti gli altri account quindi il ricapitolo ancora una volta per ripristinare il wallet metamask il nostro principale bastano le frasi segrete poi se avete più account bisogna cliccare su ogni account e andare a esportare la chiave privata di riferimento per ogni account bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento spero che il video vi sia piaciuto l'abbiate trovato utile vi invito per supportare il mio lavoro ad iscrivervi al canale ad unire anche la nostra community telegram se avete bisogno di assistenza o di fare due chiacchiere insieme a noi ciao a tutti ciao